A Ginevra, in Svizzera, c'è la cosiddetta cattedrale della scienza. È il CERN, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Lì, una mattina, viene trovato morto il professor Leonardo Vetra. Stava lavorando in laboratorio ed era riuscito a ricreare il Big Bang, cristallizzando in un cilindro di vetro il momento della creazione dell'universo. Il risultato del suo esperimento è un piccolo oggetto in grado di liberare un'energia incommensurabile, capace di incenerire la terra. Quest'arma impropria gli è stata sottratta poco prima di essere ucciso barbaramente. Il suo cadavere, infatti, viene ritrovato mutilato con una scritta marchiata a fuoco sul petto, questa parola, illuminati. È un ambigramma, ovvero una parola scritta in modo tale da poter essere letta diritta e anche capovolta. Così inizia Angeli e demoni di Dan Brown. Secondo lo scrittore, illuminati erano Goethe, Giordano Bruno, Mozart, Bernini, personaggi costretti a piegare la testa di fronte al potere della chiesa di Roma o che hanno cospirato nell'ombra contro di essa, oppure vittime innocenti dei roghi dell'inquisizione. Ora tutti loro, si immagina nel romanzo, saranno vendicati. I nuovi illuminati distruggeranno la chiesa proprio con l'arma sottrata a vetra. Dan Brown aggiorna così al ventunesimo secolo lo storico conflitto tra scienza e fede. Roma, la città santa. Gli antichi ruderi e la magnificenza del Vaticano la rendono unica al mondo. Roma è una città controversa, moderna e antica, eterna e misteriosa. Per Dan Brown, scrittore di thriller, Roma con la sua storia e i suoi segreti è il luogo ideale per le cospirazioni. In Angeli e demoni, le strade e l'architettura di questa città nascondono inquietanti intrighi e tradimenti. È possibile che il grande scienziato Galileo e l'artista Bernini tramino per annientare la chiesa cattolica? L'azione del romanzo Angeli e demoni si svolge per la maggior parte a Roma. Dan Brown la sceglie perché è una città ricca di chiese, di musei e di attrazioni turistiche, nota per la sua bellezza, per la sua storia e per la sua tradizione religiosa. Lo scrittore riesce in modo geniale a far rivivere questi luoghi nelle sue pagine. Angeli e demoni è un thriller di cospirazioni, basato sul secolare scontro tra religione e scienze. Un'antica setta segreta agli illuminati vuole annientare la chiesa cattolica, colpevole di aver sopraffatto la scienza per secoli. A Robert Langdon viene dato il compito di decifrare gli indizi lasciati dagli illuminati nella città. La corsa contro il tempo, alla ricerca di una bomba collocata nei sotterranei del Vaticano, porta Langdon a scoprire un altro sconvolgente segreto. Tra gli adepti della setta degli innominati figurano lo scienziato Galileo e l'artista prediletto dal Vaticano, Gian Lorenzo Bernini. È possibile che personaggi così celebri siano dei cospiratori? Dan Brown vuole mettere in discussione le nostre conoscenze del passato. Per farlo sceglie il periodo barocco perché è il meno studiato e conosciuto della storia dell'arte di Roma e perché molte delle bellezze artistiche della città sono barocche. Si tratta di un'epoca in cui da un lato si assiste alla nascita del nuovo pensiero scientifico con governico e Galileo e dall'altro si continua a credere nella magia e nell'astrologia, subendo il fascino del passato pagano che gli italiani non sono mai riusciti a dimenticare. Nel romanzo Dan Brown sembra voler provocare il lettore quando scrive che alcuni dei più illustri esponenti della Chiesa hanno progettato la distruzione del Vaticano. I lettori sono costretti ad esaminare le questioni di fede sotto una nuova luce, come è già successo con il Codice da Vinci. Dan Brown ha sollevato numerosi interrogativi che hanno suscitato l'interesse sia di laici che di cattolici. Lo scalpore e l'attenzione provocati da queste tematiche non hanno precedenti. La premessa del romanzo è accattivante. Da secoli la Chiesa è minacciata da un nemico occulto. La setta segreta degli Illuminati aspetta il momento giusto per compiere la sua vendetta. Ma qual è la verità? Quella degli Illuminati è una delle società segrete più affascinanti di ogni tempo. Fin dalle sue misteriose origini, la setta sembra raccogliere adepti in tutto il mondo. Ma gli Illuminati esistono realmente o è un'altra invenzione di Dan Brown? Secondo l'eroe del romanzo Robert Langdon, i profondi contrasti tra la scienza e la Chiesa Cattolica risalgono al 1500, quando a Roma un gruppo di scienziati fonda un'organizzazione segreta, gli Illuminati. Langdon è convinto che la setta non esista più da secoli, fino a quando non viene incaricato di far luce sull'omicidio dell'astrofisico Leonardo Vetra, marchiato a fuoco sul petto col simbolo degli Illuminati. Non sono completamente d'accordo con l'interpretazione che Dan Brown dà degli Illuminati. Gli Illuminati sono una setta fondata sui principi dell'illuminismo del XVIII secolo, ma secondo lui il loro obiettivo sarebbe quello di annientare il Vaticano e il potere temporale della Chiesa Cattolica. Nel 1776 un professore bavarese di giurisprudenza, Adam Weishaupt, fonda una società segreta che chiama gli Illuminati. Il suo scopo è quello di diffondere gli ideali dell'illuminismo, libertà dell'individuo, potere della ragione e diritto all'autogoverno. Queste idee erano decisamente radicali per quei tempi, perché l'Europa era controllata dalla Chiesa e ogni paese era governato da una monarchia assoluta o dalla nobiltà, che accentravano il potere nelle loro mani. Per evitare che la setta venga scoperta, Weishaupt sviluppa un complesso sistema di rituali e codici segreti. Grazie alla cultura e all'astuzia dei suoi adepti, la setta attira ben presto a sé altri pensatori illuministi, diffondendosi rapidamente. L'organizzazione contava poche migliaia di adepti nelle aree di lingua tedesca dell'Europa centrale e fu soppressa completamente alla fine del XVIII secolo. Stiamo parlando di una organizzazione che non ebbe mai una grande diffusione e che sopravvisse probabilmente solo 12 o 14 anni. Secondo alcune leggende sorte in seguito, dietro ad ogni evento storico ci sarebbe la cospirazione degli illuminati, dalla rivoluzione francese a quella americana, dall'avvento del comunismo fino alla grande depressione. È difficile credere che queste persone, che hanno operato dei cambiamenti politici e culturali così importanti per la civiltà occidentale, siano rimaste nell'ombra. Esiste oggi un legame tra gli illuminati ed Henry Kissinger? Ho i miei dubbi. Dopo alcuni capitoli, Robert Langdon scopre il legame tra Galileo, Bernini e la setta. Ma intanto il lettore ha già conosciuto lo spietato killer, incaricato dagli illuminati di compiere la loro vendetta, l'assassino. L'assassino è un personaggio affascinante ed ospuro, si considera un discendente della setta medievale islamica, gli Ashashin o Nizari Ismailiti. L'assetta esiste ancora oggi, in almeno 25 paesi, tra cui gli Stati Uniti. Per capire il ruolo dell'assassino nel romanzo, bisogna risalire all'epoca delle crociate, quando la chiesa si servì degli assassini per raggiungere il suo scopo, eliminare i capi musulmani. Chiesa e assassini formarono un'alleanza profana. Fondata in Persia nel 1060, la setta degli assassini fa costruire una fortezza vicino al Mar Caspio e da lì agisce per 166 anni. Nati come setta segreta all'interno dell'islam, gli adepti commettono omicidi in pubblico, utilizzando sempre il pugnale. Molti racconti su questa setta furono raccolti dai crociati e diffusi in occidente. Una leggenda sostiene che il comportamento degli assassini fosse dovuto agli effetti di particolari rituali che prevedevano l'uso di hashish. Si intiene che la parola assassino deriva proprio dal nome di questa droga. Si pensava che l'origine della loro fazia e del mito dei drogati visionari fosse dovuto ad un uso eccessivo di hashish. Marco Polo stilò un resoconto sugli assassini, secondo cui essi venivano drogati in un giardino segreto e lì seduti da donne. In poche parole, questo giardino richiamava il paradiso descritto da Maometto, con tutti i piaceri della carne. Alcuni vedono una somiglianza inquietante tra il comportamento degli assassini e quello dei terroristi dell'11 settembre che vivono in clandestinità negli Stati Uniti prima di compiere le stragi. Gli assassini venivano inseriti come domestici nelle famiglie di uomini potenti, ritenuti nemici. Servivano i loro padroni con grande devozione, spesso per anni, poi, al momento giusto, li uccidevano, pugnalandoli in tutti, consapevoli del fatto che loro stessi sarebbero andati incontro ad una morte certa. Sicuramente Osama Bin Laden si è ispirato ad Asa Nisabha, il capo degli assassini, ma secondo me sono molto diversi. Allora non c'era la violenza indiscriminata che caratterizza il terrorismo di oggi. Forse può sembrare un pregiudizio, ma la persona che ha compiuto l'attentato a Papa Giovanni Paolo II era di estrazione turca ed è significativo in questo contesto, perché anche gli assassini provenivano dall'Asia minore. Lo scienziato ucciso, Leonardo Vetra, è marchiato a fuoco sul petto con la terribile parola illuminati. Langdon la definisce un ambigramma, una parola leggibile da più prospettive. Il simbolo degli illuminati verrà impresso anche su quattro cardinali e guiderà Langdon per le strade di Roma in un percorso segnato da orribili omicidi. È possibile che l'assassino esegua degli ordini dati secoli prima da due fondatori della setta come Galileo e Bernini? Molto probabilmente gli ambigrammi sono stati inventati negli anni settanta. Ben Brown ha conosciuto un inventore di ambigrammi, John Lando, che ha lo stesso cognome del protagonista del romanzo. È lui l'autore degli ambigrammi contenuti in angeli e demoni. Non ci sono prove della loro esistenza nel XVII secolo, né in Italia né in Germania, dove la setta degli illuminati ha origine. Perché Galileo, uno degli scienziati più stimati della storia, si trova in conflitto con la Chiesa Cattolica? Può essere veramente lui l'ideatore della cospirazione degli illuminati? Galileo viene processato per aver sostenuto la teoria copernicana secondo la quale è la Terra a girare intorno al Sole. La concezione biblica, che vede la Terra al centro dell'universo, in tal modo viene contraddetta. Per la Chiesa, Galileo è un traditore. I dati scientifici raccolti da Galileo rivelavano una realtà in contrasto con quella proposta ad alcune interpretazioni bibliche. Lui era religioso e il problema era conciliare i due opposti. Concluse che la Bibbia può dirci come andare in cielo, ma non spiegarci la sua nascita. Con ciò vuole dire che la ricerca sull'origine del mondo non deve partire da promesse fondate su verità considerate irrefutabili. Nel 1543 Copernico pubblica la sua rivoluzionaria teoria, che viene all'inizio trascurata. Un secolo dopo la riforma protestante minaccerà l'autorità della Chiesa, che esige invece completa obbedienza alla dottrina cattolica. Quando inizia a sostenere la teoria copernicana, Galileo incontra una dura opposizione. La scienza, intesa come disciplina, non esisteva al tempo di Galileo. A lui non interessava entrare nel merito di questioni teologiche, ma voleva che la Chiesa riconoscesse il suo lavoro come una ricerca della verità attraverso i fatti. Ma la Chiesa in quel tempo considerava gli scienziati una grave minaccia per la teologia e la dottrina cattolica. Il Papa permette a Galileo di mettere per iscritto la sua teoria. Lo scienziato però deve limitarsi a presentare l'argomento solo come un'ipotesi. Invece, nel suo trattato Dialogo sui due massimi sistemi del mondo, non solo espone esplicitamente la teoria di Copernico, ma utilizza la lingua volgare invece del latino, la lingua degli accademici. Galileo scrisse la sua opera in volgare proprio perché potesse essere letta da tutti. Fu un atto di sfida nei confronti del potere della Chiesa. Inoltre, nel libro, il personaggio che sosteneva le idee della Chiesa si chiama Simplicio. A differenza degli altri personaggi istruiti e intelligenti, Simplicio era molto ingenuo. Rappresentando il Papa con questo personaggio, Galileo non solo dimostrò di essere in disaccordo con lui, ma lo fece anche apparire ridicolo. Il Papa non glielo perdonò. Al processo Galileo si dimostra favorevole a firmare una dichiarazione di colpevolezza, ma a condizione che sia eliminata una frase che lo discredita come cattolico. Galileo può anche abbiurare le sue idee scientifiche, ma non può sopportare di essere considerato un cattivo cattolico. La biura lo salvò dalla condanna a morte, ma lui non smise mai di credere nelle sue idee che riteneva inconfutabili. È possibile che sia lo scienziato amareggiato per questi motivi a ordire il complotto degli illuminati durante i lunghi anni di carcere che gli sono stati imposti dalla Chiesa? La battaglia di Galileo rappresenta il tema centrale di angeli e demoni, l'antico conflitto tra scienza e religione. Lo scienziato, devoto a entrambe, riesce a porre fine al suo conflitto interiore? Langdon si trova di fronte alla versione moderna del conflitto di Galileo, quando viene convocato nei laboratori del CERN, dove si sta sperimentando in segreto una sostanza altamente pericolosa, l'antimateria. Il CERN è attualmente il principale centro di ricerca nucleare del mondo, a sede a Ginevra, in Svizzera. I fisici del CERN si stanno realmente occupando dello studio dell'antimateria. E come è scritto in Angeli e demoni, sono stati loro gli inventori del World Wide Web. Leonardo Vetra, lo scienziato assassinato, è anche un prete. Lui si definisce un teo fisico. Diversamente da Galileo, che antepone la scienza alla religione, Vetra si considera prima di tutto un uomo al servizio di Dio. Attraverso esperimenti segreti, Vetra è riuscito ad intrappolare un piccolo campione di antimateria e crede di aver riprodotto il momento del Big Bang. Il personaggio di Leonardo Vetra, che incontriamo all'inizio del romanzo, ricorda molto il cosmologo belga Georges Lemaitre, vissuto nei primi anni del Novecento. Lemaitre era un prete cattolico, ma era anche un filosofo, un astronomo e un fisico. Fu proprio lui a formulare per la prima volta la teoria che oggi è chiamata Big Bang. La Genesi nella Bibbia descrive come Dio abbia creato l'universo dal nulla. La descrizione ricorda stranamente la teoria scientifica del Big Bang, secondo la quale l'universo è originato da un'esplosione cosmica che dà origine alla materia, all'antimateria, alla luce e al tempo. In realtà, tutto è partito da un'osservazione. Edwin Hubble, lo scienziato da cui ha preso il nome il famoso telescopio, osservò il cielo di notte, vide corpi spoccati e scoprì altre galassie come la Via Lattea e altri piccoli universi. Ma notò che questi corpi non erano immobili, ma si muoveva. Tutto l'universo è in continuo stato di espansione. Si potrebbe dire, se tutto è in continua espansione, com'era l'universo molti anni fa? Il prete gesuita Georges Lemaitre fu il primo a dare una risposta a questa domanda concludendo, dopo aver studiato le equazioni di Einstein, che molti anni fa l'universo era molto più piccolo, più incandescente e più denso. Di conseguenza, sulla base dei dati raccolti, nacque l'idea che l'universo abbia avuto un'origine oggi nota, col nome di Big Bang. Galileo crede che scienza e religione siano due strumenti diversi e complementari che conducono alla conoscenza di Dio. Leonardo Vetter, lo scienziato assassinato, si è spinto ben oltre. La bomba collocata nel Vaticano consiste in un cilindro che contiene antimateria rubata dal laboratorio di vetra. Sebbene Langdon inizialmente non creda all'esistenza di una setta ritenuta ormai estinta, in un secondo momento deve arrendersi all'evidenza. Gli illuminati hanno aspettato 400 anni per mettere in atto la loro vendetta, distruggere la chiesa con la sostanza che ha generato il mondo. Gli scienziati ci hanno fatto capire l'origine dell'universo, ma ancora non ci hanno dato risposte su quello che è successo prima del Big Bang. E questo è compito della religione. A giudicare dai numerosi libri che contengono nel loro titolo la parola Dio e la parola fisica, si sente che c'è una forte volontà di riconciliare la scienza con la religione. Forse questa riconciliazione non ci sarà mai, ma molti continuano a sperarci. Il misterioso lavoro di Leonardo Vetra al CERN riguarda l'accelerazione di particelle subatomiche in un enorme acceleratore. Le particelle mandate in direzioni opposte, a velocità molto elevata, si scontrano ed esplodono. Nel romanzo di Dan Brown il loro impatto sprigiona particelle di materia e di antimateria, proprio come avvenuto al momento del Big Bang. Teoricamente l'antimateria è la sostanza più esplosiva esistente sulla Terra. Bisogna capire se questo tipo di sostanza letale esiste davvero. È quasi un secolo ormai che si parla di antimateria. Per la fisica non è più un mistero, come vuole farci credere Dan Brown nel suo romanzo. Forse lo è per la gente comune. Servirebbero centinaia di miliardi di dollari per creare antimateria sufficiente da poter essere usata come arma di distruzione. Inoltre nessuno è ancora riuscito a capire come trasportarla. Nel romanzo Angeli e Demoni il campione di antimateria rubato al CERN è custodito in un contenitore cilindrico sottovuoto e viene trasportato a Roma. Ma oggi non è possibile farlo. Il punto è che oggi possiamo costruire armi nucleari in grado di annientare non solo la città di Roma, ma anche l'Europa interna. Dan Brown ricorre al tema dell'antimateria perché è quello prediletto dai romanzi di fantascienza. Quando Langdon giunge all'interno del Vaticano alla ricerca della bomba, entra in contatto con un mondo ricco di storia e di intrighi, in cui la tradizione si scontra con la modernità. La città del Vaticano è la sede del governo della Chiesa Cattolica. Si tratta di una fortezza inespugnabile. L'apparato di sicurezza si avvale della tecnologia più sofisticata. Una bomba così potente non avrebbe effetti devastanti solo sul Vaticano. Con i suoi 44 ettari, la città del Vaticano è lo stato più piccolo del mondo e si trova all'interno della città di Roma. Il patrimonio artistico presente nei musei vaticani ha un valore inestimabile. L'esplosione di una bomba, come prospettato nel romanzo di Dan Brown, avrebbe conseguenze devastanti non solo per l'arte, ma anche per il patrimonio spirituale e intellettuale. La distruzione anche di una piccolissima parte di questi tesori colpirebbe tutto il mondo dell'arte. La frenetica ricerca per localizzare la bomba conduce Langdon nei sotterranei del Vaticano fino alla tomba di San Pietro. La basilica vaticana è stata edificata su quella che si ritiene la tomba di Pietro e nel luogo dove il santo subisce il martirio. È il 1950, durante le celebrazioni dell'anno santo Papa Pio XII annuncia solennemente, è stato ritrovato il sepolcro del principe degli apostoli. Dopo anni di ricerche infatti è venuta alla luce una tomba con una scritta incisa sulla roccia, Pietro è qui. Finalmente la prova che la basilica è stata costruita proprio sul luogo di sepoltura del santo. Ma quando l'ossario viene riaperto risulta vuoto. Ci vorranno altri dieci anni e il ritrovamento delle ossa di un uomo avvolte in un panno di porpora prima di riaccendere l'entusiasmo dei fedeli e di convincere Paolo VI che San Pietro è sepolto lì sotto. Vero o falso che sia, tradizione vuole che tutti i papi vengano seppelliti nelle grotte vaticane. Ed anche nel libro di Dan Brown è lì che verrà tumulata l'illustre vittima degli illuminati. Nel romanzo Langdon arriva a Roma subito dopo la morte del Papa e apprende che il pontefice è stato vittima della cospirazione degli illuminati. Intrighi e complotti hanno spesso caratterizzato la storia del papato. Nel primo millennio di vita della chiesa due papi abdicano, sette sono deposti e otto probabilmente uccisi. Molti reputano che in quel periodo la nomina papale sia una condanna a morte quasi certa. La trama di angeli e demoni si ispira a diversi avvenimenti realmente accaduti in Vaticano. Dan Brown nel suo romanzo fa riferimento ad intrighi, a pontefici avvelenati, a rivalità e a battaglie per il controllo della chiesa. Lui ha praticamente vagliato la storia del Vaticano alla ricerca di tutti quegli avvenimenti particolari che gli potevano servire per scrivere il romanzo. Nella storia del papato non mancano santi né impostori. Alcuni papi sono dei criminali come Alessandro VI della famigerata famiglia dei Borgia. Padre di figli avuti da donne diverse uccide i suoi nemici per consolidare il potere della sua famiglia. La santità non è un requisito indispensabile per il trono papale. Per la maggior parte i papi provenivano da grandi e potenti famiglie italiane come ad esempio i medici. Una volta raggiunto il potere questi pontefici elargivano ai loro parenti le cariche ecclesiastiche. Queste nomine garantivano la successione al trono papale di un membro della stessa famiglia. Molti pontefici però sono figure carismatiche. A differenza del papa descritto nel romanzo di Dan Brown molti pontefici si sono distinti per la loro forza spirituale. Basti pensare a Giovanni XXIII, una delle figure più amate del ventesimo secolo, o a Giovanni Paolo II, il cui pontificato è stato il secondo più lungo nella storia della Chiesa. In Angeli e Demoni Langdon apprende in un secondo momento che il papa non è morto di infarto ma è stato avvelenato con la stessa medicina che prende per il cuore. Dan Brown riprende un altro episodio realmente accaduto. Nel 1978 papa Giovanni Paolo I muore dopo solo 33 giorni di pontificato. La morte viene attribuita ad un infarto che lo coglie nel sonno ma c'è chi sostiene che sia stato avvelenato da alcuni dignitari del Vaticano per insabbiare uno scandalo finanziario. Quando si verifica una morte come quella di Giovanni Paolo I molte persone credono o vogliono credere ad una cospirazione. In realtà oggi non ci sono più ombre di dubbio sul decesso di papa Giovanni Paolo I il quale morì a causa di una flebite dopo un brevissimo pontificato durato solo 33 giorni. In Angeli e Demoni l'assassino rivendica il rapimento di quattro cardinali e vuole ucciderli uno ad uno in luoghi pubblici così da non lasciare dubbi sulla vittoria degli illuminati. Il crimine sarebbe l'esatta ripetizione della purga, la vendetta che la chiesa perpetrò in passato contro gli illuminati. Quattro scienziati della setta furono marchiati con croci, uccisi e i loro corpi mutilati vennero esposti in pubblico. Ma la purga avvenne realmente? Dan Brown monta un avvenimento storico che non si è mai verificato. Tralasciando il fatto che la morte del papa nel romanzo sia stata causata dagli illuminati, l'elezione di un nuovo pontefice, come abbiamo visto con Giovanni Paolo II, è un evento di importanza mondiale deciso dai potenti cardinali della chiesa. Provenienti spesso da nobili famiglie, i cardinali erano i consiglieri del papa. Oggi sono anche dei funzionari della curia romana. I cardinali sono eletti dal papa. In passato pontifici corrotti, come nel caso dei medici, nominavano come cardinali figli, cugini, nipoti, per poter perpetuare la loro dinastia. I cardinali sono persone molto avvedute, che conoscono il potere e sanno come esercitarlo. Con la morte di papa Giovanni Paolo II e con l'elezione del nuovo pontefice, i cardinali hanno potuto lasciare un segno nel papato e nella chiesa. Durante la transizione la figura più autorevole è il camerlengo. Nel romanzo il camerlengo finge di rischiare la propria vita per salvare il Vaticano. Il suo compito è presiedere il sacro cerimoniale con cui verrà eletto il futuro papa, anche noto come il conclave. La parola conclave deriva dal latino cum e clavis e proviene dalla pratica di chiudere a chiave i cardinali nella cappella sistina. La tradizione del conclave ebbe inizio nel 1274 con papa Gregorio, per la cui elezione i cardinali impiegarono tre anni. Dan Brown descrive il conclave in modo molto dettagliato. In poche parole il conclave è costituito da un gruppo di religiosi riuniti in una stanza fino al compimento della loro missione. Mentre le guardie svizzere cercano la bomba nei sotterranei del Vaticano, il camerlengo ha deciso di trasferire i cardinali nella cappella sistina. Ma anche questo luogo sacro potrebbe nascondere un indizio del cospiratore. Lo scrittore Dan Brown ci spinge a riflettere e a porre attenzione a simboli, relazioni e codici molto interessanti. Quando gli artisti non erano liberi di esprimere il loro pensiero, lo esprimevano nelle loro opere d'arte attraverso l'uso di simboli o codici. Nel caso della Cappella Sistina di Michelangelo, Dio è raffigurato con la classica immagine di un vecchio con la barba bianca che tende il braccio per toccare Adamo e infondergli la vita. È la classica rappresentazione della Genesi nella nostra cultura. Se togliamo l'immagine di Dio, che era chiusa in una specie di conchiglia e la confrontiamo con la sezione sagittale del lobo parietale del cervello umano, allora notiamo incredibili somiglianze. Alcuni sostengono che Michelangelo, noto per avere studiato i cadaveri umani, abbia sazionato il cervello umano e ne abbia osservato l'interno. Nel suo dipinto, paradossalmente, non è Dio che crea l'uomo, come nella Genesi, ma è l'uomo che crea Dio nel suo cervello, una concezione che ai tempi di Michelangelo non poteva certo essere manifestata. Langdon trova la chiave per scovare l'assassino. Dopo una ricerca disperata negli archivi del Vaticano, scopre il diagramma, un documento in codice scritto da Galileo. Secondo Dan Brown, gli archivi del Vaticano sono una delle biblioteche più inaccessibili del mondo. Il Vaticano continua ad essere un archivio di documenti politici di straordinaria rilevanza. Gli archivi segreti sono presenti in tutte le principali biblioteche nazionali, come in quella del Congresso americano. Se Robert Langdon fosse stato realmente un professore e ricercatore di Harvard e avesse avuto bisogno di consultare i documenti segreti della Biblioteca Vaticana, avrebbe avuto sicuramente libero successo. L'idea di documenti connessi con il processo di Galileo, mai rinvenuti perché tenuti negli archivi segreti, è un'invenzione di Dan Brown, necessaria allo svolgimento dell'azione, ma che non trova nessun riscontro nella realtà. In Angeli e Demoni, il diagramma e il documento segreto attribuito a Galileo contiene una mappa misteriosa che conduce al covo segreto degli illuminati. Langdon scopre così il cammino dell'illuminazione, un percorso all'interno della città che conduce a monumenti e statue simboliche situate in luoghi pubblici. Per compiere la sua missione, Langdon deve risolvere gli enigmi e seguire il percorso fino alla fine. Galileo non ha mai scritto il diagramma e di conseguenza il documento non può trovarsi nell'archivio del Vaticano. È solo una trovata geniale dello scrittore. Ma se è improbabile che Galileo sia un membro degli illuminati, come i fatti dimostrano, è ancora più difficile pensare che il più illustri e artista barocco cospiri contro la chiesa. Gian Lorenzo Bernini, l'artista favorito dalla chiesa, lascia moltissime opere sparse in tutta Roma. Seguendo il cammino degli illuminati, Langdon giunge alle fontane e alle sculture di Bernini, opere che contengono simboli nascosti. Questi simboli potrebbero costituire un codice segreto che il Bernini ha fornito ai membri della setta. Gian Lorenzo Bernini, scultore, architetto, ma soprattutto grande artista, è il rappresentante più illustre del barocco romano. È stato il favorito di Papi, i cardinali del XVII secolo. È stato lui a progettare una buona parte del Vaticano. Piazza San Pietro e tutto il colonnato sono opere progettate dal Bernini. I quattro altari della scienza in apparenza sono opere religiose. In realtà, per i temi che racchiudono, sono associati ai quattro elementi naturali, terra, aria, fuoco e acqua. Il primo indizio porta Langdon alla Cappella Chigi, nella chiesa di Santa Maria del Popolo. Qui scopre la prima opera del Bernini, contenente un messaggio in codice che solo gli Illuminati e Langdon possono decifrare. Bernini è un artista a cui è stato attribuito un codice segreto. In realtà il codice segreto contenuto nelle sue opere è quello della controriforma e non necessariamente quello di una setta. Bernini era un grandissimo artista e le sue opere infatti si trovano in numerose chiese molto famose. È per questo che Dan Brown ha scelto il suo personaggio, rendendolo poi particolarmente enigmatico. Bernini diventa l'artista favorito di Urbano VIII, il papa che si scontrerà in seguito con Galileo. Le sue opere d'arte dimostrano che Bernini è un cattolico. Diventa difficile pensare che possa essere uno dei fondatori degli Illuminati. Penso che il punto debole della teoria di Dan Brown sugli Illuminati sia proprio l'idea di aver scelto Bernini come membro più illustre della setta. È un'idea inconcepibile soprattutto perché la vita di Bernini è molto ben documentata. Conosciamo praticamente tutto quello che ha fatto durante la sua esistenza. L'idea che Bernini fosse un Illuminato sarebbe in contrapposizione con quello che ha fatto, con le sue conoscenze e con le opere da lui realizzate. È la sua arte che ci dice tutto di lui. È quasi certo che Gian Lorenzo Bernini fosse un devoto cattolico, che facesse parte dell'ordine dei Gesuiti e che pregasse moltissimo durante la settimana. Non credo affatto che le sue opere contenessero codici segreti per gli Illuminati. Accettando la tesi del romanzo, cioè che il Bernini sia il cospiratore degli Illuminati, i quattro altari della scienza sarebbero disposti lungo il cammino degli Illuminati in base all'ordine, terra, aria, fuoco e acqua. Tra le opere del Bernini ci sono le sculture associate a tali elementi. Tutto questo dovrebbe indicare il cammino dell'illuminazione. Quattro omicidi che hanno luogo secondo un ordine specifico. Se questo cammino degli Illuminati fosse esistito davvero, si dovrebbe partire dal presupposto che Bernini abbia realizzato la prima opera a 24 anni, la seconda a 55, la terza a 30 e l'ultima poco prima della sua morte. E questo non è possibile, non ha senso. Il braccio disteso dell'angelo presente nella statua Abacuc e l'angelo nella cappella Chigi indica a Langdon la direzione che porta all'indizio successivo. Spesso sculture come Abacuc e l'angelo raccontano storie allegoriche, ricche di simbolismo ed espresse con un linguaggio visivo di facile comprensione. Abacuc deve soccorrere Daniele che si trova nella tana del leone. L'angelo gli indica la direzione. Abacuc sostiene di aver altro da fare. L'angelo allora lo solleva verso l'alto, trattenendolo per i capelli e lo conduce alla tana del leone. Il suo compito è quello di soccorrere Daniele. Bernini fu incaricato dal Papa di scolpire le statue che dovevano ornare due nicchie della cappella. È importante notare che Abacuc non ha lo sguardo rivolto verso la città di Roma ma verso la scultura di Daniele. L'indizio successivo del Bernini porta al West Ponente. Questo basso rilievo in marmo raffigura un angelo che emette il soffio di Dio o vento occidentale. Più tardi in quel punto Langdon trova il secondo cardinale ucciso. I polmoni perforati schizzano sangue e sul corpo ha il marchio di un ammigramma A.I.R. Dando una sua interpretazione al simbolismo espresso da quelle opere d'arte, Brown ci induce a riflettere sui diversi livelli di significato racchiusi in esse e che molti architetti, scultori e pittori di quel periodo intenzionalmente hanno voluto trasmettere. L'indizio successivo è l'estasi di Santa Teresa nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Secondo lo scrittore, la statua progettata per il Vaticano viene subito rimossa dal Papa che vede in essa chiare allusioni sessuali. Se si osserva questa meravigliosa scultura, non si può non pensare all'interpretazione di Dan Brown, secondo cui Santa Teresa sta avendo quello che lui definisce un orgasmo attravolgente. Per realizzare la statua, Gian Lorenzo Bernini si è ispirato al diario di Santa Teresa. Il linguaggio da lei usato sembra davvero alludere a un'esperienza sessuale. Non si sa se il Bernini abbia usato la metafora sessuale per esaltare l'estasi religiosa, oppure se stava realmente cercando di nascondere o celare addirittura un motivo pornografico all'interno di questa scultura. Non si sa neanche d'altra parte se fosse consapevole del fatto che la gente l'avrebbe colta. L'interpretazione sessuale che Dan Brown dà della statua è assolutamente ingiusta. Basta leggere le parole di Santa Teresa che descrivono l'esperienza mistica per capire che è rapita dall'amore di Dio impersonato dall'angelo. È una scultura che riesce a trasmettere contemporaneamente sentimenti interiori, devozione e abbandono a Dio e alla vita. Dan Brown con le sue descrizioni e con le sue scoperte riesce ad attirare l'attenzione del lettore e a coinvolgerlo. Senza dubbio questo è un pregio. Tuttavia i lettori hanno la sensazione che l'autore voglia in qualche modo imporre il suo punto di vista personale nell'interpretazione delle opere d'arte. È come se sostenesse che la sua è l'unica e vera interpretazione ma in realtà in molti casi risulta debole. L'indizio finale porta Langdon a Piazza Navona alla fontana dei quattro fiumi. Qui ingaggia una dura lotta con l'assassino e riesce a salvarsi per miracolo dall'annegamento. Non può fare nulla per salvare il quarto cardinale che marchiato con l'ambigramma W-A-T-E-R muore annegato. È assurdo pensare a un professore di Harvard che si tuffa a capofitto in una vasca con l'acqua alta 20 centimetri. Non solo, la piazza è sempre piena di gente, perciò non vedo come qualcuno possa annegare in 20 centimetri d'acqua. Ora sappiamo che è possibile, ma ancora non riesco a spiegarmi come Landon possa tuffarsi in una simile vasca e lottare con l'assassino. In angeli e demoni, ogni monumento del Bernini sul sentiero dell'illuminazione è indicato da un obelisco egizio. Dan Brown considera questo elemento come una prova del coinvolgimento del Bernini nelle scienze occulte, un altro aspetto della setta segreta degli illuminati. La piramide è un simbolo che diviene importante a Roma dopo la conquista dell'Egitto da parte di Cesare. Ma non solo la piramide, anche altri simboli egizi entrano a far parte del linguaggio dell'impero. Bernini non è andato in Egitto a prendere gli obelischi di cui Dan Brown parla nel romanzo. Sono stati portati da Cesare. Bernini ed altri architetti furono incaricati di collocare gli obelischi di fronte alle chiese in modo tale che i pellegrini che giungevano a Roma potessero individuarle. erano un punto di riferimento e la loro funzione non era affatto quella di evocare gli spiriti degli antichi egizi. Gli angeli compaiono in ogni indizio del Bernini. In cima all'obelisco della fontana c'è una colomba, simbolo pagano della pace, rivolta verso Castel Sant'Angelo, il luogo del successivo omicidio. Punto di forza della Roma imperiale, Castel Sant'Angelo diviene nel corso degli anni una inespugnabile fortezza papale. Il castello è famigerato per il passetto, il passaggio segreto che lo collega con il Vaticano e che viene usato dai pontifici in caso di attacco nemico. Secondo Dan Brown, il passetto diventerà in seguito il tunnel utilizzato da alcuni papi per recarsi dalle amanti o ai luoghi di tortura. Castel Sant'Angelo è una fortezza dal passato controverso, ma è inconcepibile pensare che i pontifici tenessero nascoste le loro amanti, anche perché le ricevevano nei loro appartamenti all'interno del Vaticano. A Castel Sant'Angelo Langdon incontra per l'ultima volta l'assassino. Il camerlengo ha annunciato a tutto il mondo che gli illuminati hanno vinto, la scienza ha trionfato sulla religione. Il camerlengo nel suo discorso dice agli uomini di scienza che se vogliono avere la prova dell'esistenza di Dio, allora non devono fare altro che escrutare i cieli con i loro telescopi. È un'affermazione davvero profonda. La gente oggi si sente in qualche modo insoddisfatta, disorientata e attribuisce la colpa di questa condizione all'invasione della tecnologia e della scienza. Questo romanzo vuole far luce sul significato della vita e questo è legittimo, però trovo ingiusto accusare la scienza di non aver trovato ancora delle risposte quando la religione le cerca da molto più tempo. Nel momento in cui diciamo è stato Dio, chiudiamo le porte alla scienza. In Angeli e demoni Dan Brown ci guida in una corsa contro il tempo per le strade di Roma, la città della cospirazione. Il lettore viene immerso in un mondo dove niente è come sembra. Un noto scienziato diventa un traditore, un artista amato dal Vaticano ne trama la distruzione, un papa viene assassinato, la sostanza che ha originato il mondo minaccia di annientarlo e un uomo usa il male per avvicinare il mondo a Dio. Nel romanzo di Dan Brown tutto diventa credibile. Angeli e demoni può essere definito un giallo, un romanzo d'avventura o un thriller, ma in ogni caso offre lo spunto per partecipare al grande dibattito tra scienza e religione. Ed è questo secondo me l'aspetto più interessante. I romanzi di Dan Brown hanno riscosso un enorme successo e continuano a suscitare nei lettori una curiosità insaziabile. Non sono mai stato troppo critico nei confronti di quei romanzi che affrontano argomenti di scienza perché è fiction. Quando tratta questi argomenti Brown è abbastanza convincente. Laddove non lo è non mi riguarda perché è fiction. Che sia vera o frutto di immaginazione, la cospirazione degli illuminati, irangeli e demoni ci costringe a mettere in discussione le nostre convinzioni. Ma è solo l'inizio di un'altra affascinante storia. Gli illuminati si infiltreranno nella confraternita dei frammassoni e sbarcheranno in America proprio nel momento in cui sta per nascere la democrazia.